Credo di capirlo, Patrick. Scusami? Non la violenza, ma il dolore. Quale dolore può giustificare fare del male a chi ti vuole bene? No, non lo giustifica, ma un dolore troppo forte può farti perdere il controllo. Come quello che sento quando guardi Guzman come guardi me. Che c'è? È così, mi dispiace. E se ti secca, cazzi tuoi. Sicuro che stai bene? Ho avuto giorni migliori, ma sì, tutto bene. D'accordo. Ciao, ciao. Hai dimenticato le chiavi? Hai lasciato qualcosa? E Guzman? A casa sua, immagino. Ah. Che c'è alla fine? Hai bevuto? Magari. Che c'è alla fine? Che c'è alla fine?